affrontare la fine di una relazione con un ex fidanzato un'esperienza molto difficile per alcuni la notizia che il proprio ex stia per sposare qualcun altro può risultare estremamente travolgente portandoli a reagire in modi impensabili un esempio eloquente di questa reazione estrema è avvenuto in bolivia dove un ex fidanzata è comparsa inaspettatamente al matrimonio del suo ex con l'intenzione di rovinare quel giorno speciale questa storia è stata riportata dall'avanguardia la donna in questione si è presentata al matrimonio senza preavviso e ha lanciato sacchetti pieni di feci colpendo direttamente gli sposi ovviamente questo gesto ha gettato un'ombra sulla celebrazione e ha danneggiato gli abiti degli sposi in particolare quello della sposa quest'ultima ha condiviso il suo disagio sui social media chiedendo all'ex compagna del suo attuale marito di lasciarli vivere la loro vita in pace la vicenda ha attirato l'attenzione di social media con migliaia di utenti che hanno condiviso commenti e opinioni grazie a tutti